sono un secco sì ma un secco ignorante duro proprio questo video vi dico subito non lo faccio per rispondere ai dissing perché sapete che a me proprio non me ne frega niente ma lo faccio per rispondere a voi che è la cosa più importante bene adesso già che ci siamo fa anche freddo siamo a fine gennaio adesso se riesco a vi faccio vedere il secco quindi un metro e 71 per 80 kg fa anche un freddo cane ma c'è miseria allora innanzitutto secco sì ma con l'addome quindi giudicatemi in voi ragazzi c'ho un v-shape ragazzi che ci stanno due dita dentro però non mi sembra molto molto secchino e poi basta perché mi sta peccando addosso c'ho già i crampi ai fianchi il colore della pelle fa molta differenza perché sono bianco cadaverico perché siamo a gennaio scusatemi se non mi vado a fare le lampade a rovinarmi la pelle per mettere su un po di abbonizzatura la bilancia che peso 80 kg dopo cosa mi venite a dire che ho barato con la bilancia e alla fine ragazzi dopo ditemi quel cazzo che vi pare cosa vi devo dire sei grosso ti bombi non sei grosso è il beso di bombarti per me ragazzi sono solamente delle gran pippe mentali che provengono da quelle persone che muoiono di invidia nei successi delle altre persone molto semplicemente capisco che ovviamente il popolo di youtube non può essere lo stesso popolo di instagram che mi segue posso capire che in molti non seguendomi appunto su instagram non sono documentati non sono aggiornati su tutto ciò che ho fatto in questo periodo quindi come si è svolta il tutto io non è che da un giorno all'altro mi sono rinsecchito anche perché rinsecchito un metro e 71 per 80 kg non so poi quanto sono secco comunque a parte questo le foto che mi faccio fare sono fatte da un professionista quel professionista è il ragazzo che sta dietro quella telecamera quindi sono tutte quante cose fatte perfettamente è normale che in certe foto mi si risaltano i più i muscoli la vena prima di far la foto ho dato una piccola pompatina di push up di pull up e poi subito in posa a fare la foto quindi è normale che sono muscolo un po più in pump nel video che è uscito la volta prima non ero in pump stavamo facendo un video così ironico quindi non mi stavo allenando qualche scena può sembrare che sono un pochino più secco del solito ma sono sempre 80 kg certo prima ero 86 kg quando avevo fatto la gara due anni fa due anni fa due anni fa ero 86 kg ma mi ero dedicato solamente ed esclusivamente a fare la gara perché sono fatto così quando c'è un obiettivo quando mi dedico a quella cosa quello sport lo faccio al 100% e per fare quella gara dei mondiali di vbff in inghilterra ho tralasciato ho cavato via completamente il fattore cardio ok questo mi ha permesso appunto di dedicarmi solamente alla sala pesi e di conseguenza di crescere muscolarmente quindi di crescere muscolo ma ricordatevi che quando tre anni fa nei miei primi video e se voi andate a vedere nei primi video qui del canale ti incommando ero 72 kg 74 kg perché perché io vengo dal mondo delle arti marzialimiste non ero un bodybuilder non sono un bodybuilder e non sarà un bodybuilder vi ho spiegato anche il perché io lo ammetto ho provato a fare una gara appunto perché voi me l'avevate chiesto quindi mi sono messo in gioco e l'ho fatta ma sinceramente tutto il fattore di stare a dieta eccetera eccetera ragazzi non è per me perché sapete che a me piace mangiare poi dopo io faccio anche un lavoro abbastanza pesante ripartiamo un attimo dal principio che magari perché ho abbandonato le gare ve lo spiegherò magari in un altro video un po meglio quindi combattevo sotto i 70 kg ok per certi tornei quindi nei meno 70 quindi mi presentava il peso meno 69 il mio peso originale era sempre 72 barra 74 per combattere nei meno 70 kg che mi presentava il peso 69 kg perdevo sempre quei 4 5 kg dipende e ovviamente il peso in base ai tornei alle tipologie c'era o il giorno prima due giorni prima o lo stesso giorno per i tornei quindi dipende un pochettino perché funziona così se tu c'è un peso lo vai sempre a perdere così ti presenti al peso che sei più leggero dopo reintegri mangi ribevi e il giorno successivo quando c'è il combattimento ricombatti che sei un pochino più pesante per quale motivo se io sono 72 74 kg e combatto nella meno 77 kg che l'altra categoria mi troverò persone che da 80 kg scendono a 76 77 ok il giorno del peso ma poi quando me li becco in gabbia sono di nuovo 80 kg per farvi capire quindi se io rimanevo a combattere nei 72 74 che l'ho fatto perché ho fatto anche molti galà nella meno 77 l'ho fatto però mi trovavo sempre un po' in difficoltà perché appunto erano anche molto più alti quindi quando mi davano degli high kick low kick quello che è gambe più lunghe e io facevo sempre più fatica ad avvicinarmi e a portarli a terra e poi dopo a menarli perché lo sapete io sono diciamo bravino posso dire che sono abbastanza bravino con la lotta a terra in piedi non sono mai stato questo fenomeno come basi sulla base da lottatore ero abbastanza magrino magrino ma sempre con le mie forme quindi la mia bella spalluccia mio bel bicipite sempre bello tirato questo anche grazie al metabolismo veloce che ho e la mia base magra che mi aiuta sicuramente ho abbandonato diciamo la fase dei combattimenti quindi dopo mi sono iniziato a dedicare un po di più alla palestra iniziando con il corpo libero quindi non facendo più tutte quante le mie discipline cioè greco romant, libra, grappling, jiu jitsu, box, muay thai, tai box perché io ogni giorno avevo una disciplina diversa e anche la mattina dalle 6 alle 7 andavo a fare lezioni private di box di tai box scusate e dopo me ne andavo in fabbrica ovviamente questo lo facevo quando non andavo in stalla quindi un giorno sì un giorno no facevo le lezioni private a bologna abbandonando tutte queste discipline dedicandomi solamente al corpo libero inizialmente poi sono passato al bodybuilding diciamo quindi ad allenarmi appunto con bilanceri pesi macchinari eccetera eccetera da lì ho iniziato a prendere sempre più peso per il semplice motivo perché ho abbandonato totalmente la parte cardiaca che facevo nelle mie arti marziali quindi mi sono dedicato alla gara del bodybuilding bene l'ho fatta non ho fatto cardio ho preso peso sono arrivato agli 86 chili ok di muscolo quindi da me siccome non ho grasso non ho mai avuto grasso adipe si vede subito quando prendo o perdo tot chili ma in due secondi si vede perché esempio una persona di 120 chili e perde 10 chili grasso non lo vedete cioè non ve ne accoraggete pure talmente minima la differenza capito invece su una persona di base magra che è solamente muscoletto diciamo tra che prende 10 ne perde 10 lo vedete subito la differenza capito ovviamente ne ho presi pianin pianino per crescere appunto il più possibile in maniera pulita ok e quello ragazzi che ho portato appunto in gara è il massimo che io sono riuscito a portare diciamo che è il massimo che sono riuscito a dimostrarvi ma ero 86 chili quindi non ero chissà quanto enorme poi ragazzi ovvio dalle foto magari possono anche sembrare super mega enorme ma 86 chili parliamoci chiaro io penso che un bodybuilder grossissimo può anche arrivare a 90 a 100 chili da 86 si chi non mi sembra di essere poi così grosso sì sono grossettino bello tondo ma ho sempre negli standard più sei definito e l'effetto ottico ovviamente sembra ancora maggiore sembra in più se ci metti un'altra persona di fianco cioè in base a come è sembri sicuramente più grosso o più piccolo del normale ovvio mi metti una persona di non so 100 kg di muscoli io sembro un bacchetto mi metti una persona che non pratica bodybuilding quindi fa poca palestra o così così quindi più magroina io sembro enorme cercate sempre di valutare bene cercate di non farvi sempre ingannare ok per vari motivi che poi vi spiegherò in un altro video ho voluto abbandonare la parte del bodybuilding e mi sono dedicato direttamente al rugby mi mancava quella cosa del contatto di picchiarmi prendere le botte tutte le sere mi mancava alla fine ragazzi io ho l'indole dentro io sono un lottatore nato cioè a me piace aggrapparmi le persone spaccare per terapicchiarmi con i miei compagni e dopo magari bermi una coca cola o una birra ogni tanto quello di rugby cosa è successo siccome da inesperto da principiante nella mia categoria che noi siamo in c1 quindi una categoria bassina tra virgolette una categoria qui di paese nel rugby che ha stessa in piedoterme così almeno lo sapete se me lo chiedete mi hanno messo come ala le ali sono quelle dove giocano un po meno all'inizio sono quelle un pochino più inesperte però per essere ala bisogna anche correre veloce siccome io ho sempre praticato un po' di atletico un po' di corsi eccetera eccetera so che se ho un peso minore corro veloce anche iniziando rugby facendo le partite tanta attività cardiaca rimessa all'interno dei miei protocolli di allenamento questa cosa mi hanno fatto pianin pianino pianin pianino riperdere peso ma ho anche documentato gare di staffetta che ho fatto con le mie squadre sul mio instagram nelle mie storie ragazzi quindi non potete andare a vedere perché le storie durano 24 ore ma chi mi segue su instagram lo può dire io in base all'obiettivo che voglio adatto il mio fisico molto semplicemente non mi è mai piaciuto fare un'unica cosa sono sempre un po un 360 gradi di tutti quanti gli sport paragonatemi adesso a quando facevi video a inizio col team commando prima di tutto non quando stavo al top che ero in preparazione gara perché quella è solamente un'illusione che dura quei pochi mesi 1 2 3 mesi poi cambi da definizione a massa e sono delle condizioni che tieni solamente in quel momento prima non facendo cardio il mio allenamento si svolgeva principalmente per l'ipertrofia adesso ragazzi che non mi interessa più prendere tanto peso appunto per far delle gare mettendoci dentro il cardio cosa succede vado a bruciare tantissimo e non ho bisogno di tenere una dieta iper proteica non mi interessa mangiare tante proteine per andare a costruire muscolo per farlo crescere perché non è nei miei interessi oltre al rugby siccome io sono un amante di tutti gli sport come sempre ci ho aggiunto il wrestling il wrestling per quale motivo perché c'è un sogno perché mi è sempre comunque piaciuto stare all'interno di un ring alla fine infatti torno sempre sui miei passi e mi è sempre piaciuto fare cose acrobatiche quindi mi guardo molto i video di rai misterio john cena e gli altri grandi superstar della wwe e anche il wrestling ragazzi facendo queste cose acrobatiche non posso essere troppo pesante perché sono certe cose acrobatiche non mi vengono quindi ricordatevelo sempre io adatto il mio fisico allo sport che voglio fare perché io mi sento uno sportivo al cento per cento sono qui che sto girando questo video appunto qui nel capannone vicino alla stalla e mi viene da da dirvi questa cosa che se un giorno tiri la merda per aria prima o poi ti casca addosso